Celebrazioni insolite e in forma ridotta per la festa della liberazione anche a Potenza, dove il sindaco Mario Guarente e il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Canizzaro, hanno deposto una corona di alloro dinnanzi al monumento ai caduti di Parco Monte Reale. Assolutamente sì, era doveroso. Non vedo perché non dovessimo esserci come amministrazione comunale. Ripeto, è anche simbolicamente il modo per esorcizzare il momento che stiamo vivendo oggi, la festa della liberazione, perché no, che possa essere la festa della liberazione anche dal coronavirus. Si è chiusi, racchiusi in un abbraccio unico, seppur virtuale, dietro la nostra bandiera che rappresenta i nostri ideali, la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra cultura e quindi è bellissimo vedere la nostra città piena di così tanti tricolori attaccati ai balconi e alle finestre. Un simbolo importante, fortemente richiesto dall'AMPI nazionale e locale, presente con una giovane delegazione per rimarcare i valori e gli ideali di speranza e comunità rappresentati dal 25 aprile, nel 75esimo anniversario, mai così necessari per guardare con fiducia ad una ripartenza nella seconda fase dell'emergenza Covid-19. In questo 25 aprile ci sono tutti i valori di libertà, di uguaglianza, che comunque la Costituzione si ha regalato dalla Resistenza. È importante essersi, è importante anche con una piccola rappresentanza. Quello che noi andiamo a ricordare oggi è lo spirito di tante persone che hanno lottato per quella che è l'Italia di oggi. È importante farlo con unità, è importante resistere tutti i giorni, nonostante queste emergenze. Quindi l'AMPI per questo tiene ad essere qui oggi.